E' aperto il mio nuovo shop, potete comprare magliette, felpe e maglie e maniche lunghe, vi lascio il link in descrizione per acquistarlo Ciao a tutti ragazzi sono sempre io e oggi sono tornato con un'ennesima reaction, non sono da solo, sono con Singla Ciao E quello che andremo a vedere oggi, come avete visto bene, è Follettina che canta Balla di Zoda Fremetto, questo video è una parodia, non è un video originale, cioè non è che si è messa a cantare questa canzone E iniziamo C'è tutti i Follettini e Follettine, benvenuti in questo nuovo video, Karaokey Ha detto Karaokey Karaokey L'italiano è un optional per Follettina Certo Andiamo C'è qualcosa che non quadra Cosa? Non sapevo che Follettina avesse la voce di Zoda O nel mentre ha usato una di quelle boccettine di Fabio Robazzi che gli ha cambiato la voce Probabilmente E' bellissimo Ma che che Ma che cos'è? Questo è niente di vedere il ritornello cosa fa Oh a tempo Proprio lei il rapper dell'anno Oh infatti, sembra lei che canta Trovarseli davanti, incontrarli per scalzarli come amarsi per potersi Ma che, ma che cosa ho appena visto Follettina che balla Bellissimo Però è bravo, cioè mi piace Stanzone Cioè guardate come balla Cioè Sarei pronta per amici eh Te lo dico Pronta Questa è sexy Ballerina numero uno Cioè Mamma mia Come lei non sa ballare nessuno Poi ho fermato in un frame bellissimo Ok, è abbastanza cringe questo video Però è a tempo da Questo è vero E' troppo bello questo video Rai che è troppo bello Si, è fantastico No vabbè Chi l'ha fatto è un genio Chi l'ha fatto è un genio E non so se riuscirò a mettere il link in descrizione di colui che ha fatto questo video Ma è spammato qui Quindi passate da questo canale anche Posso dire una cosa? Si Per come adesso Amici, Sanremo, quelle cose lì Adatta proprio eh Momento, 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 momento Sì sì, infatti ci dovrebbe andare Al bacio Qui Però se vediamo il video originale non credo sarà adatto per Sanremo Ne dubito Siamo conto è figo Dai che mo' arriva il balletto Vai prepariamoci Eccola Eccola la ballerina numero uno Ma che E' troppo bello E' ballerina Mamma mia C'è come ballare non balla nessuno Addirittura Eh ok questo effetto alla cazzo Ma ci sta E' inquietante E' troppo inquietante Eh sì, infatti Molto Ah ah l'espressione di adesso E' quella cosa Al bacio Che fa dire Che fa dire che il video vale Vale dieci Novantadue minuti di applausi Ma non finisce qua la reazione Perché oltre a questo ci sono i commenti Iniziamo con il primo commento Qualcuno ha visto il mio polmone sinistro Sto morendo Oppure Cavolo come si muove Che libidini Poi Ok questa è bella La voce di Zoda è quasi più collegabile Della sua voce normale Alla sua faccia Ma è vero eh E su questo C'ha ragione C'ha ragione Sì Poi tutti quanti che si complimentano Con colui che ha fatto sto video Che veramente merita Un genio Vediamo un altro Oh questo è bello Lele coglie un complimento Prendere come vuoi Che mi racconti trans Va bene Ho capito tutto da questo commento Sì Una che ha scritto È un bella ragazzo Non c'è dubbio È stato visualizzato nel computer Destinatare alle 4 È il peperoncino Uno che scrive Original schifo No C'è È una droga Popo buona Ramma mia Bellissima Uno che scrive Basta ti adoro Una che scrive È che karaoke 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 Vi dico Allora una cosa Se volete Che io vi metta il cuoricino Nel commento Scrivete hashtag Karaoke Spammatelo Ma quanto farite karaoke? Questa è bella Datimene la metta Che mi voglio tagliarle bene Mi voglio tagliare le bene Questa è bella Secondo lei si fa più droga Di quel tossico dipendente Di zona Ecco Secondo me sì No come canzone ci sta Sì ci sta Oh Ah questa però è bella Io l'avrei Tincato un po' Le labbra Ma per il resto Bravo Beh questo è vero Perché le labbra Non è che andavano Troppo a tempo Ma Vabbè È follettina Possiamo capirla Poi il balletto Ah vabbè Il balletto Qualcosa di bello Fabio la voglio rivedere Però con un'altra canzone Va bene raga Direi di chiudere qua Questa bellissima reaction Ringrazio tantissimo Senga per essere stata qui Mia compagnia Grazie È un onore Spero che vi sia piaciuto Se si lascia il like Iscrivetevi al canale Mette pagina Pagina a facebook Trovate i link Nesse sezioni Anche social Passate anche dal suo canale Ovviamente In descrizione E niente Noi ci si vediamo In un prossimo video Bella a tutti ragazzi Ciao